Visto che hai cantato sangria, sai dirci quali sono gli ingredienti per realizzare questo drink alla perfezione? Allora, gli ingredienti per la sangria, il vino o bianco o rosso, dipende da quale preferisci tu, la frutta, il rum, come si chiama? La cannella e lo zucchero, forse? Sì? Sono prontissima e sono super emozionata, anche un pochino ansiosa perché saldi verso un parco enorme davanti a più di 200 milioni di persone che mi guarderanno cantare I am what I am che è il mio singolo con cui rappresenterò il mio paese a Malta. È molto bello per me rappresentare Malta per cantare in Italia che è la mia seconda casa e mi sento molto fortunata e onorata. Canta il ritornello della tua canzone preferita. Ok. I am what I am è una canzone molto potente con un messaggio molto forte. È un minno all'amore verso se stessi. Secondo me è molto importante prendere del tempo per ricordarci che siamo perfetti come siamo e di non lasciare nessuno dirci altro. Il tuo cantante italiano preferito? Allora se dovessi scegliere direi Mahmood o Blanco. L'album si chiamerà I am Emma. Sono un mischio di canzoni che mi rappresentano al 100% e sono diverse sfumature di Emma. Rihanna o Beyoncé? Rihanna tutta la vita. Di solito non ho una portafortuna però a Natale ho cantato al Vaticano davanti al Papa ed è stata un'esperienza incredibile e mi è stata data anche un rosario benedetto dal Papa e quindi sicuramente rapporterò con me. Con chi non faresti un duetto? Risponda con chi farei un duetto perché non so con chi non farei un duetto. Con Elisa. Mi piace tantissimo, super brava. Con quale artista degli Eurovision concluderesti la serata? Se dovessi scegliere forse con Brooke che è la ragazza che rappresenterà l'Irlanda perché lei beve tantissimo e sicuramente ci divertiremo insieme.